ciao a tutti da valentina vi presento un altro cucciolo di casa lui si chiama michelangelo e ha nove anni è un amore di cucciolo piccolino e lui pure mi piace il mio cucciolo se vi piace il mio cucciolo un bel pollice in su saluto a tutti ciao micchi michelangelo una carezza e poi me ne vado con tempo l'amore della mamma ciao